Il primo cittadino di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano, nel suo intervento ha evidenziato, oltre a quelli che sono i punti programmatici di quella che sarà l'azione amministrativa, ha evidenziato un rapporto diretto con la collettività leporanese. Anche la volontà di tenere questa prima assise qui in piazza è significativo e emblematico di una gestione partecipata. Sicuramente, abbiamo deciso tutti insieme di tenere questo primo consiglio comunale in piazza proprio per dare la possibilità di una più ampia partecipazione di tutti i cittadini leporanesi. Come ho detto più volte anche in campagna elettorale, per me personalmente e anche per tutta la mia squadra è importante avere un colloquio e un dialogo continuo con i cittadini perché noi possiamo imparare molto da loro. Attendiamo quelli che sono i loro suggerimenti, segnalazioni di situazioni da risolvere e quindi noi saremo sempre disponibili all'ascolto attivo del cittadino. Lei sindaco ha auspicato una, tra virgolette, pacificazione, una unità di intenti nell'interesse del perseguimento del bene comune. Sicuramente, è interesse di tutti far crescere questo territorio. Quindi ritengo, cioè da parte mia ci sarà sempre la disponibilità, come ho detto, ad un dialogo leale e costruttivo con la minoranza. Spero che questo avvenga anche da parte loro. Diciamo che è giusto che loro controllino la nostra attività amministrativa e io ho chiesto comunque anche a loro dei suggerimenti in maniera che tutti insieme possiamo far crescere questo territorio.